Sono accusati di aver smaltito illecitamente rifiuti pericolosi in una vasta aria a passo di piazza a poca distanza dalla zona protetta del biviere. Quattro indagati attualmente sottoposti all'obbligo di presentazione ieri sono stati davanti al GIP Francesca Pulvirenti. Solo Roberto Fontana, difeso dall'avvocato Giuseppe Cascino, ha risposto alle domande riferendo la propria versione dei fatti. Secondo i PM della procura e poliziotti del commissariato, i rifiuti speciali venivano dati alle fiamme dopo essere stati stoccati proprio a passo di piazza. In totale, in questa ulteriore inchiesta, sono 14 gli indagati e gli inquirenti hanno sequestrato diversi mezzi. Emanuele Fontana, fratello di Roberto, si è invece abbalso della facoltà di non rispondere a sua volta difeso dal legale Giuseppe Cascino. E' lo stesso padroncino che un anno fa venne sottoposto a misura sempre per smaltimento e lecito di rifiuti pericolosi, soprattutto plastica. I PM della procura e i poliziotti del commissariato hanno posto molta attenzione sull'area rurale che era stata trasformata in discarica. Ha preferito non parlare anche Jonathan Pirone, a sua volta sottoposto a misura. E' assistito dall'avvocato Tommaso Vespo e davanti alla GIP ha deciso di non rispondere. Lo stesso ha fatto Emanuele Marino, difeso dal legale Mirko Maniglia. La procura, con quest'ultima operazione, ha chiesto e ottenuto provvedimenti di sequestro anche per i mezzi dei padroncini. Pare che lo smaltimento irregolare fosse costante, con danni anche di tipo ambientale. Gli approfondimenti giornalistici anche della redazione di Trincee avevano condotto proprio alle aree, poi finite all'attenzione degli inquirenti che, nelle scorse settimane, hanno eseguito un'ulteriore attività investigativa, con indagati, mezzi messi sotto chiave e aree sequestrate dalla Noe e dai carabinieri. Il ciclo dello smaltimento illecito dei rifiuti pericolosi sembra passare soprattutto dai padroncini che si muovono tra le aree rurali della città. Le difese degli indagati potrebbero anche decidere di rivolgersi al riesame.